. Ignazio Moser pubblica i messaggi privati con Cecilia. La storia d'amore tra Cecilia e Ignazio Moser procede a gonfie vele contro ogni pronostico. . La coppia nata all'interno del reality show Il Grande Fratello Vip costituita da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra non subire le critiche ricevute. . Il loro amore non è nato nel migliore dei modi, poiché Cecilia per il ciclista ha deciso di lasciare il suo storico fidanzato Francesco Monte. . Quest'ultimo nonostante il torto subito ha sempre difeso l'Argentina e non ha mai usato parole spiacevoli nei suoi confronti. . Nel frattempo Cecilia continua a viversi la sua storia d'amore con Ignazio, sebbene lei abbia dichiarato che la loro è solo una frequentazione e non ancora un fidanzamento, e sebbene non godono dell'appoggio di tutte le persone che li circondano. . . Terminano in reality show Entrambi sono super richiesti da varie discoteche per le loro serate e ciò spesso li obbliga a separarsi. . 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